Il prototipo del nuovo padrino è Filippo Bisconti, una laurea presa in architettura, imprenditore di successo, che non disdegnava farsi vedere spesso nel locale di famiglia, la birotteca Spillo, uno dei locali più frequentati nel cuore di Palermo. Ed è Filippo Bisconti che insieme a Francesco Colletti, da nuovi boss della Cupola 2.0, a veloci pentiti, molto veloci, ed è grazie a loro che i carabinieri hanno arrestato in una nuova operazione antimafia il nipote di Michele Greco, il papa della mafia, noto a tutti per la benedizione data ai giudici del maxiprocesso prima della Camera di Consiglio. Il rampollo si chiama Leandro ed è figlio di Giuseppe, meno di 30 anni e già come il nonno reggente del mandamento di Ciaculli, la stessa fulminea carriera e d'altronde Leandro si faceva chiamare con lo stesso nome del nonno, cioè Michele. E con lui è stato tratto in arresto anche Calogero Lopiccolo, 47 anni, figlio di Salvatore, il padrino del racket, già all'ergastolo dal 2007. I due rampolli avevano stretto una forte alleanza con la benedizione del nuovo capo dei capi, Settimo Mineo, ed i due hanno certosinamente ricostruito agli inquirenti episodi, fatti e circostanze. Partendo però da un allarme, l'organizzazione è infiltrata in modo pericoloso nell'economia palermitana e da una conferma purtroppo. La cupola si è tornata a riunire il 29 maggio. Il dato che fa pensare chi continuava a ripetere come un mantra che la mafia fosse sconfitta è che dalle parole dei due pentiti invece si evince come non siano i mafiosi a cercare gli imprenditori, ma siano gli imprenditori purtroppo a cercare i boss. Una cosa nostra 2.0 quindi, basata su una sub-cultura mafiosa, per sconfiggere la quale purtroppo non bastano le brillanti operazioni delle forze dell'ordine.